Grazie a Demetrio Migliorati per questo speech che ci porta direttamente, ci conduce direttamente alla prima tavola rotonda di questa mattinata e questa prima tavola rotonda ci porta automaticamente a un altro aspetto, quello che abbiamo già avuto modo di ripetere più volte, una parola essenzialmente la digitalizzazione. Abbiamo visto come la spinta proprio alla digitalizzazione che è arrivata dal Covid abbia incentivato fruizione di servizi digitali. Questi servizi digitali sono costruiti secondo logiche di Open Banking e abbia accelerato un processo che la normativa PSD2 nel 2016 ha cominciato, quindi da cui ha avuto inizio. Il titolo di questa nostra tavola rotonda lo vedete in sovrimpressione, Banking as an open platform e attraverso questa premessa cercheremo di capire, insieme ai nostri ospiti, come guardare dentro i modelli core bancari e come poter individuare cosa nello specifico gli istituti finanziari possono mettere in campo proprio per aprirsi ai modelli open. E dicevamo anche in apertura come attraverso percorsi, strumenti, riuscire a catturare le esigenze di clienti che sono variegate, che si sono fatte anche più variegate proprio nell'ultimo anno. Do il benvenuto con piacere, due ospiti in studio finalmente, questo è il ritorno alla normalità che tutti insomma ci auguravamo da tempo. Luca Colasanti, Head of Press Sales Southern Europe Axway, grazie per essere qui, Luca buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Saluto Vitali Carabas, Executive Finastra, grazie per essere qui anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. E in collegamento Milo Gusmeroli, Vice Direttore Generale e Chief Information Officer Banca Popolare di Sondrio. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto, grazie anche a lei. Insomma, tre ospiti che sicuramente ci aiuteranno a comprendere quello di cui accennavo poco fa. Io partirei proprio con una stessa domanda per tutti, che è quella un po' di base, cioè partiamo proprio dai modelli core bancari. Mi chiedo e ci chiediamo se è possibile creare dei veri e propri modelli architetturali già progettati per essere open e quindi come la banca si deve rapportare a questi modelli fondamentalmente. Partiamo da Luca Colasanti. Sì, assolutamente. Diciamo che la domanda è pertinente e la risposta breve è sicuramente sì, è possibile creare dei modelli architetturali che siano già open per la natura. Prima di andare poi nel dettaglio di quello che è un modello, il modello tipico di una open platform, voglio solo fare un piccolo approfondimento perché si parla e si parlerà sempre e sempre più spesso di API, ma cos'è un API? Fondamentalmente un API è un'interfaccia che ha una particolarità o meglio due. La prima è che agnostica rispetto al consumer, quindi rispetto a chi fruisce del servizio in sé per sé e la seconda che rappresenta una discontinuità tra il producer che produce quella che è l'informazione, la funzione o quello che comunque stiamo esponendo sotto forma di servizio e chi la consuma di per sé. Queste due caratteristiche sono la base per ogni open platform. Quindi cosa serve effettivamente per creare una open platform? Cosa serve a livello architetturale? Per avere una open platform è sicuramente un API layer. Quali sono le caratteristiche che deve avere questo API layer? Noi siamo un vendor, quindi ci confrontiamo tutti i giorni con i nostri clienti e prospect da questo punto di vista. Le caratteristiche principali è ovviamente un API layer di base, deve poter esporre API. Esporre API significa rendere disponibile l'interfaccia e quindi accedibile dalla controparte che poi la chiamerà, ma non solo perché un API layer deve avere tutta una parte di governance. Governance che significa essenzialmente poter gestire il concetto di grant, di authorization, di community, chi utilizza le nostre API. Noi dobbiamo sapere, dobbiamo controllare. Poi c'è un concetto di security, se la nostra API è esposta e pubblicata deve essere anche protetta e quindi un API layer deve poterla proteggere. Non da meno chiaramente c'è un concetto di monitoraggio. Noi dobbiamo sapere chi fa cosa, quando e se c'è un problema, qual è il problema. Perché dobbiamo avere il controllo, perché un API layer poi alla fin fine è l'ultimo step prima della nostra controparte, quindi che permette al nostro controparte di entrare alla fin fine nel nostro sistema informativo, di utilizzare i nostri servizi e quindi noi dobbiamo avere il controllo totale. Ultimo aspetto da non sottovalutare è quello legato al metering. Metering significa sapere chi ha usato quanto qualcosa. Perché? Perché ci sono dietro logiche di, per esempio, allocazione dei costi. Io posso allocare internamente dei costi in base al servizio che è stato utilizzato dalla controparte, quindi la struttura si fa carico di quella piccola porzione dei costi. Oppure ci può essere un concetto di monetizzazione, monetizzazione che poi qui si apre un mondo perché può essere diretta, può essere indiretta, può essere monetizzazione nei confronti della terza parte o monetizzazione nei confronti del correntista, quindi dell'utente finale. E poi ci sono tutti aspetti del metering legato alle analitiche, quindi sapere esattamente qual è il nostro servizio che va per la maggiore, quindi qual è magari investire di più, in quale settore investire di più, in quale magari eliminare perché non ha seguito. Questo che rappresenta l'API layer, il rischio qual è in questo scenario, che rimanga un buco tra quello che è il sistema informativo della banca, perché una banca di oggi chiaramente non è un'istituzione creata nel 2021, ma molte sono banche storiche, frutto di acquisizioni, merger e quindi di conseguenza hanno un sistema stratificato, un sistema IT stratificato, un sistema IT comunque ormai consolidato che deve essere aperto, open platform. E lì in quello spazio quello che serve è esattamente il concetto di integrazione, quindi il layer di integrazione che seguendo la filosofia di una open platform basata su API, quindi flessibilità, dovrebbe essere basato sul concetto di microservizi, che è un pochino il concetto del mattoncino Lego che io posso utilizzare, montare e smontare formando prima un castello, poi il robot, poi un aereo, ma di base ci sono sempre gli stessi mattoncini. Questo ci darà la flessibilità di immediatamente o in breve periodo esporre il nostro catalogo di API con le esigenze correnti di mercato, ma anche seguire le evoluzioni del mercato e aprire nuovi scenari per il futuro. Beh, effettivamente da quello che lei Luca ci sta raccontando si capisce al meglio perché si usa la parola architettura, no? È un po', passatemi il concetto, è un po' la base di tutte le operazioni, prima bisogna strutturare le fondamenta, chiaramente in questo caso si parla di open e soprattutto di diverse esigenze, utilizzo, io mi sono segnate le parole insomma che lei ha usato, un utilizzo che è sempre più variegato e quindi automaticamente bisogna avere più mattoncini, ecco l'ultima parola che ha utilizzato. Ecco, così almeno abbiamo anche riassunto, però è assolutamente chiarissimo. A questo punto Vitali, Caraba, a lei a partire anche da quello che Luca raccontava, insomma aggiungiamo altri mattoncini, ecco lo facciamo anche noi nella tavola rotonda. Sì, diciamo, stiamo trovando in un contesto molto difficile, soprattutto le banche che si trovano in un contesto dove i margini, diciamo, di intermediazione sono via e via, stanno via e via diminuendo, stanno crescendo, c'è un'esplosione delle nuove tecnologie che creano una competizione, diciamo, anche dalla parte delle big tech per istituti bancari e quindi per rimanere competitivi in questo contesto, diciamo, storico molto particolare e per rimanere diciamo in tempo con queste evoluzioni, le banche devono avere, diciamo, il loro business allineato con i loro, diciamo, piattaforme, i loro sistemi core bancari. Quindi per fare questo le banche sostanzialmente, diciamo, devono fare le scelte, diciamo, tattiche o strategiche a seconda, diciamo, della direzione. Non possono certamente fare le scelte di non fare nulla perché comunque i dettami, quelli che erano della PSD2 hanno sicuramente imposto dei vincoli per cui le banche devono assolutamente prendere, diciamo, azioni e il tempo è un asset, diciamo, che si sta esaurendo e crea anche un vantaggio competitivo per i nuovi competitor, diciamo, i nuovi player che sono i neobank, le stesse big tech che comunque adesso stanno via e via dando sempre un occhio, diciamo, a quello che storicamente era il settore delle banche e quindi le banche devono sempre, diciamo, tenere l'occhio alla loro piattaforma e cercarla di renderla sempre più flessibile e allineata con le loro esigenze di business. Quindi sostanzialmente quello che possono fare le banche sono, diciamo, due tipologie di scelte. Quella di cercare di evolvere i sistemi attuali, quindi i sistemi legacy che storicamente hanno avuto anche, diciamo, il successo è fidelizzazione del cliente, però questo crea un vincolo tale per cui siamo sempre legati, diciamo, alle tecnologie storiche e quindi nel lungo periodo non è la scelta migliore. Invece, per quanto riguarda, diciamo, proprio le scelte strategiche che possono essere, diciamo, attivate dalle banche più proattive è quella di creare, diciamo, le piattaforme e adeguare in toto per, diciamo, per i propri workflow bancari e sistemi core, quelli che sono, diciamo, le piattaforme di nuove tipologie e che sono le piattaforme già pensate e studiate, diciamo, per essere open, per essere integrati, per agire, diciamo, utilizzando al meglio tutta quella tecnologia che viene, diciamo, utilizzata dalle big tech per fidelizzare i loro clienti. Quindi noi, anche noi come consumatori, siamo sempre di più, diciamo, ci aspettiamo dalle nostre banche la stessa risposta in real time, immediatezza, quella che abbiamo, diciamo, avuto, quello che viviamo quotidianamente, diciamo, magari in altri servizi offerti dalle big tech. E quindi, in risposta a questo, diciamo, quali sono, diciamo, le possibili configurazioni anche dalle software house più grandi che da anni offrono, diciamo, i servizi alle banche e offrono le piattaforme alle banche. Quindi, diciamo, le possibilità sono quelle di evolvere attraverso anche la modulizzazione e separare quello che è front-end e bank-end bancari. Quindi, per quanto riguarda il back-end bancario, quindi la parte core che è meno visibile all'utente finale, questa è una parte, diciamo, che storicamente si è evoluta almeno. Invece, ultimamente, si sta investendo sempre di più sulla parte front-end, quella più interattiva, quella che può creare un valore aggiunto all'utente finale. E' lì dove, diciamo, le banche possono, diciamo, attivare anche le attività di cross-selling e reggere la competizione che sta arrivando, diciamo, ad altri fronti. Per quanto riguarda, invece, diciamo, la risposta della nostra azienda, quello che stiamo cercando attraverso, diciamo, le nostre soluzioni, essendo presenti su diversi settori, diciamo, di mercato, come la parte di tesoreria, trade finance, banking e per la parte dei pagamenti, cerchiamo di creare subito questi sistemi che sono già predisposti, sono già aperti e fanno parte di un ecosistema più grande. Per cui l'utente, in questo caso, diciamo, la nostra banca, un istituto finanziario, che entra in questo ecosistema, può far parte già, diciamo, di un mercato molto più ampio e quindi aderire, diciamo, e creare i propri servizi nei tempi molto più rapidi e go to market più veloce. Infatti, lei ha ripetuto più volte la parola rapidità, velocità, immediatezza, real time, quindi è ancora di più, immagino, elementi, fattori che già c'erano, però che adesso sono anche più richiesti dai consumatori, dai clienti, no? Penso che valga... Esatto, infatti. Beh, il timing, effettivamente, quando si affrontano discorsi legati al business, in questo caso, insomma, al settore delle banche, è quello che la fa un po' da padrone, no? Il timing, altrimenti si resta indietro. Al di là, poi, di stare al passo con i tempi, con l'innovazione, con la digitalizzazione. Allora, Milo Gusmeroli, a lei la parola, parlavamo proprio di guardare dentro i modelli core bancari, no? E stiamo individuando insieme proprio a voi che cosa potete fare nello specifico. Aggiungiamo qualche tassello in più con lei. Sì, innanzitutto dovrei ringraziare i colleghi che mi hanno scritto metà piano strategico, epilayer, layer di integrazione, microservizi, margini, business, front, verso, back, real-time, ecosistema. Diciamo che il core banking per noi, nonostante tutte le iniziative, diciamo, di downsize, infatti, di rifacimento di applicativi in ottica digitale, rimane sempre le fonti, dovrei dire in questo caso, le fonti della nostra redditività e della nostra operatività, perché comunque nel mondo bancario le principali revenue, la principale attività ancora si basa su delle applicazioni di tipo core. È chiaro che oggi è la situazione che fotografiamo, dobbiamo pensare a una sostenibilità del business, una sostenibilità del business non solo in chiave ESG, ma anche in chiave di redditività e quindi è evidente che dobbiamo pensare a nuovi modelli e quindi il passaggio dal core banking all'open banking e direi all'open finance, visto che abbiamo citato PSD2, ma ormai siamo sulla frontiera della PSD3, è un passo sul quale tutti gli istituti di credito si stanno concentrando proprio per la sostenibilità dei modelli di business. Ora, in questa sostenibilità dei modelli di business e quindi verso queste parole di open, è chiaro che abbiamo la necessità di fare i conti con quello che è il core banking. Detto che abbiamo la necessità di fare i conti con quello che è il core banking nella situazione che ho cercato di richiamare, in cui questo core banking non è facilmente sostituibile nonostante tutte le iniziative che abbiamo fatto per milioni di motivi, anche la disponibilità di applicazioni di questa natura, il fatto che le applicazioni di carattere open non sono così semplici da installare, è un ecosistema complesso e quindi il core banking pare sopravvivere non solo in Italia. Quindi è chiaro che la parola d'ordine per creare un ecosistema di carattere open e disaccoppiamento front verso back che implica tutte queste tecnologie. Da una parte noi siamo partiti con la famosa SOA per disaccoppiare, quindi abbiamo creato dei web service, oggi stiamo passando dai web service alle API, le API perché ci facilitano un'interoperabilità, perché la PSD2 sicuramente le ha rese diciamo uno standard, perché comunque anche il mercato si sta muovendo nel mondo delle API per l'interoperabilità. Abbiamo la necessità di creare delle cloud, una tipa architecture, quindi delle architetture che possono essere gestite in casa o portate anche nell'ambito cloud, con il vincolo di sapere che nel cloud bisogna andare, ma bisogna sapere anche tornare perché altrimenti ci creiamo un altro vincolo, il che vuol dire sicuramente parlare di microservizi, vuol dire parlare di containerizzazione, ma devo aggiungere anche qualche altro pensiero tipo overloading, perché non possiamo pensare di creare un frontend facendo lavorare poi i nostri clienti sul back-end e su un back-end che gira su dei mainframe e quindi questi dati debbono essere freschi e fruibili e quindi uso anch'io la parola instant. Dobbiamo parlare di intelligenza artificiale e machine learning, perché comunque i clienti che ci vengono a trovare hanno bisogno di trovare quell'afflato che troverebbero in una filiale che vengono riconosciuti, l'instant senza una capacità di intercettare immediatamente il bisogno sarebbe un instant solamente operativo e quindi in sintesi dovrei dire, sì stiamo andando dal core banking all'open banking e stiamo creando il core banking dell'open banking, quindi una nuova piattaforma con delle caratteristiche non disgiunte da quello che è il mondo del core banking. Il tutto anche in una visione che ho citato prima la parola di business perché stiamo facendo tutto questo per una sostenibilità di business futura e questa sostenibilità di business oggi la vedo anche inserita in due termini, competere e cooperare perché cito solo PSD2, PSD3 ma anche tutto un mondo delle finte che è stato richiamato, è chiaro che noi abbiamo una necessità di creare dei servizi che siano di real time, che siano open per i nostri clienti ma abbiamo anche la necessità di cooperare con un ecosistema che oggi sul mondo delle API sta costruendo dei business a noi complementari o alternativi e ci aprono altre possibilità. Questa è un po' la nostra visione. Sì sì sì, beh anche sono sicura visto che ho fatto la battuta prima che anche i suoi colleghi in studio abbiano preso appunti da quello che ha detto confermate, sì, poi è questo, si parla di strategie, di open e quindi significa anche questo. E nuove piattaforme anche qui, così riparto anche da Vitali, con un altro microtema di questa tavola rotonda che ci riporta ancora sull'open banking e sulle nuove strategie di vendita, visto che stiamo parlando di nuovi modelli. Abbiamo già detto appunto che l'open banking porta nuovi processi, nuovi servizi. In che modo però può abilitare anche nuove opportunità di cross-selling? Ok, quindi diciamo per approfondire questa parte di attività diciamo di cross-selling vorrei fare un piccolo passaggio indietro diciamo soprattutto per quanto riguarda quello che per cui il motivo per cui è stato diciamo introdotto la PSD2 e quello per quanto riguarda diciamo visto che siamo un'azienda esposta a livello globale per dire anche quali sono i trend a livello proprio internazionale diciamo e come si muovono altri mercati. Per esempio i mercati asiatici questa apertura sull'open banking l'hanno diciamo l'hanno vissuta trainata direttamente dal mercato stesso, quindi non ci sono forti regolamentazioni in quel caso ma ci sono tantissime aziende e banche che compendono tra di loro per creare questi modelli quindi chi vince su questa competizione, chi riesce adottare, riesce a creare una piattaforma più flessibile e quindi riesce a prendere una parte più grossa del mercato. Per quanto riguarda invece diciamo proprio la parte commerciale sulla parte cross-selling invece diciamo abbiamo visto che le banche nel breve periodo adottando questa parte di open banking e aprendo proprio diciamo i propri core bancari al mondo esterno nel breve periodo non riescono comunque a materializzare quindi a commercializzare questa apertura per cui nel breve periodo si riesce soltanto aprire per fidelizzare più che altro il cliente quindi prevenire che i clienti che cercano diciamo altri servizi più flessibili su altri diciamo competitor bancario o anche sulle banche non tradizionali cercano di passare sui neobank perché manca qualche parte del servizio diciamo innovativo e quindi questa è la spinta quindi per questo motivo le banche diciamo nel breve periodo possono abilitare questa parte qui per trattenere diciamo il cliente ma nel lungo periodo diciamo gli studi hanno identificato che le banche possono aprire diciamo due tavoli soprattutto per creare una piattaforma diciamo banking as a service e creare diciamo banking as a platform nel caso di banking as a service diciamo la banca apre diciamo offre i propri API al mondo esterno in questo caso diciamo può commercializzare diciamo il proprio API il proprio know-how aprendo al mondo esterno e far fruire diciamo al mondo esterno i propri contenuti dall'altra parte invece banking as a platform la banca laddove cerca diciamo e riesce a trovare un prodotto che può ritenere molto innovativo per la propria clientela cerca di integrarla nel range dei propri servizi e offrirla insieme diciamo tra i propri servizi disponibili cosa posso aggiungere su questa parte di quello che stiamo facendo noi diciamo in finastra e come cerchiamo di assecondare anche queste esigenze bancarie diciamo nel lungo periodo in questo caso noi abbiamo creato proprio una piattaforma che si chiama fusionfabric.cloud che proprio è un ecosistema pensato per tutti i player quindi partendo dalle fintech più innovative dalle banche stesse diciamo e tutte le terze parti che vogliono aderire e partecipare che possono sviluppare le proprie applicazioni su questa piattaforma far girare queste applicazioni lì dentro e anche commercializzare su questa piattaforma quale vantaggio in questo caso c'è per le banche? per le banche c'è un vantaggio che una volta aderito diciamo a qualsiasi prodotto in questo caso di finastra si apre un mondo e si aprono diciamo le aperture per tutti i prodotti e tutte le applicazioni che sono già disponibili su questa piattaforma su questo ecosistema in questo caso la banca può sia aprire diciamo i propri servizi all'esterno e quindi agire diciamo come servizio sia integrare diciamo tutte le novità e tutte le fintech che sono disponibili integrarli diciamo tra i propri servizi noi diciamo nel piccolo lo facciamo senza cercare sempre di offrire e creare un prodotto nostro interno per tutto quello che c'è diciamo nel mondo per esempio della tesoreria e se vediamo che c'è un prodotto per esempio nell'ambito di collatera o tesoreria specifico che è una fintech riesce a fare meglio di noi operiamo in questo modello di co-selling e cerchiamo di offrirla diciamo alla banca stessa e questo diciamo secondo me crea un vantaggio e crea un valore aggiunto per tutti creando diciamo che si potenziano già delle caratteristiche che ci sono ma che hanno bisogno magari di ulteriore benzina è quello di cui parlavamo prima anche banalmente che accade durante eventi come questo ci si scambia idee quindi si prende del carburante della linfa esatto è sinergia un'altra parola che abbiamo sentito diventare ancora più forte in questo ultimo anno ecco diciamo che un po' non che prima avvenisse però il guardare il proprio orticello sembra proprio un qualcosa di lontano e poi dopo mi taccio e do la parola ancora a Milo Gusmeroli abbiamo iniziato anche proprio questo evento parlando del fatto che bisogna proprio andare in questa direzione che proprio sia la premessa al punto di partenza insomma non più cioè aprirsi aprire gli orizzonti non a caso usiamo la parola open allora Milo Gusmeroli appunto torno da lei per poi invece cambiare ancora microtema e tornare da Luca Colasanti ecco nuove opportunità vantaggi cross-selling cosa aggiungere? sì vorrei dire che più che open banking vorrei dire open physical nel senso che noi rimarremo sia digitali che fisici nell'apertura perché comunque riteniamo che anche questi aspetti non vadano sottovalutati perché comunque cross-selling è sempre legato a un cliente, a una persona e quindi a una relazione diciamo che seguendo i colleghi potrei dire che il nostro motto è guardarsi dentro e guardare fuori guardarsi dentro cosa vuol dire? Vuol dire se siamo nelle condizioni di veicolare il messaggio giusto al momento giusto al nostro cliente e quindi il cross-selling per noi vuol dire oggi profilazione e analisi predittive perché questa necessità di individuare questo bisogno è strettamente legato a una giornata del cliente che è cambiata e quindi la capacità di intercettare, valutare, analizzare le giorni del nostro cliente per capire in quale momento arriva, su quale canale arriva e quindi veicolare il messaggio giusto al momento giusto perché questo riteniamo che sia uno degli elementi che in questo concetto di open stia cambiando la relazione del cliente questo vuol dire anche quindi intercettare quelli che noi definiamo i momenti della verità del cliente perché le nostre relazioni le riteniamo fiduciarie e quindi non le relazioni di convenienza o di momento ripeto non solo digitali ma fisici e digitale, quindi intercettare quelli che sono i momenti della verità che per uno può essere l'acquisto della casa, peraltro l'auto, peraltro la vacanza e quindi la capacità di creare una relazione che sia diciamo duratura e poi l'attenzione a tutto quello che è il mondo dell'instant perché abbiamo ben presente che oggi uno delle limitazioni o dei vantaggi competitivi dei competitor diciamo meno storici o meno legati al mondo core è quello di avere istantaneità nell'ambito dei servizi dicevo guardarsi dentro ma anche guardare fuori quindi guardare fuori è la consapevolezza che ci sono degli ecosistemi quindi al nostro cliente possiamo dare i nostri servizi ma anche servizi di terzi il tutto questo in un'ottica di business ma direi soprattutto con questa parola che è touch point cioè noi abbiamo bisogno di avere più contatti possibili con i nostri clienti attuali o potenziali perché riteniamo che in questo mondo di bank as a service o bank as a platform che condivido col collega ci sia un elemento fondamentale che è quello di avere una relazione col cliente quindi se noi pensiamo quante volte uno accede a whatsapp utilizza l'ipad o va su zara e quante volte invece va su un sito della banca noi capiamo come le esigenze di avere questi touch point e quindi creare ecosistema per creare più attrattività sia necessario quando parlo di ecosistemi però non penso solo al nostro ecosistema per dare qualcosa di più al cliente ma anche all'ecosistema del cliente per essere integrato nei suoi ecosistemi cioè l'API o tutto questo mondo ci permette anche di essere integrato negli ERP delle nostre imprese può essere o in altre strutture operative dei nostri clienti e questa integrazione quindi questa capacità di capire invece qual è l'ecosistema del cliente e come io posso agevolare questo ecosistema del cliente è importantissimo perché su questo si stanno diciamo misurando le fintech anzi dovrei dire le tech fin di maggior successo e riteniamo che l'insieme il mix di queste cose touch point journey messaggi mirati capacità di entrare nel tuo ecosistema alla fine possano mantenere quell'empatia che il mondo fisico finora ci ha concesso certo certo mi è piaciuto molto il concetto di guardarsi dentro e guardare fuori perché noi prima parlavamo solo abbiamo parlato di guardare dentro i modelli però effettivamente prima bisogna partire da quello che è stato fatto fino a questo momento e capire anche cosa ha funzionato e cosa no per aprirsi inevitabilmente nei confronti di quello che c'è fuori e questo mi dà modo anche di porre la prossima domanda a Luca Colasanti perché è collegato direttamente al tema della condivisione di dati abbiamo parlato della condivisione di dati come strumento necessario proprio per intercettare nuovi bisogni, nuove esigenze io mi sono scritta questo dato Istat per cui nel nostro paese quasi il 23% non ha una novità anche questa insomma della popolazione ha più di 65 anni spesso si parla proprio dell'invecchiamento della popolazione o meglio l'Italia che non è un paese per giovani ecco dobbiamo far sì che poi non sia più così come riuscire però a raggiungere questo mercato con bisogni e necessità specifiche è questo il concetto di guardarsi dentro e guardare fuori, quello che il panorama offre certo, è assolutamente un ottimo punto perché come poi dice l'Istat alla fine più del 20% della popolazione è sopra i 65% ma c'è anche una grossa fetta che è sotto i 30% quindi come dire ogni età ha le sue esigenze in termini di servizi in termini di bisogni in un certo senso che vuole esprimere ho detto, mi perdoni poi dopo la faccio continuare, si dice l'Italia non è un paese per giovani invece lo è perché c'è anche una grossa fetta di popolazione che è sotto i 30% quindi bisogna anche capire quali sono le loro esigenze assolutamente e siamo tutti quanti consumatori ma con esigenze diverse una semplice constatazione, le mie figlie che hanno 4 anni ovviamente usano smartphone, tablet cambiano applicazioni da l'una all'altra e tolgono la pubblicità da Google e da YouTube nei loro video senza saper leggere e scrivere, sono native mio padre che ha più di 65 anni invece usa lo smartphone perché lo deve usare chiaramente è l'attuale, usa Whatsapp per parlare con i suoi amici ma se deve fare un bonifico va in filiale perché va in filiale mio padre? Perché è un mondo che non gli appartiene più di tanto lo sta imparando ovviamente ma è un mondo che non capisce fondamentalmente o capisce poco quindi si fida di meno, si parla di soldi e quindi preferisce spendere la commissione per fare bonifico, faccio l'esempio, in filiale piuttosto che magari usare l'appo oppure chiede a me di farlo banalmente è chiaro che per raggiungere questi target differenti la soluzione dovrebbe essere quella di creare un qualcosa che vada a soddisfare il bisogno di questi target quindi ogni età ha le sue esigenze e quindi ogni età dovrebbe avere proprio il suo canale in un certo senso e questo pone un primo shift da dover fare cioè passare da una concezione di banca che dà dei servizi ai propri clienti a una concezione di banca che crea esperienze per le diverse tipologie ai propri clienti ora, questo approccio chiaramente fatto con, come dire, la tecnologia o comunque sistema informativo legacy chiamiamo così, o comunque quello che fino adesso è stato la realtà prevederebbe, facendo un esempio, la classica applicazione mobile se volessi farne una per gli ultra 65 anni e una per il resto della clientela significa che dovrebbe creare due verticali due verticali che è uno stack software complesso dal frontend al backend con relativi costi iniziali, costi run, tempistica e manutenzione praticamente è un qualcosa che ha poco in comune tra di loro cioè sono due silo completamente separati, segregati e che non condividono niente con molte ridondanze di poche efficienza qui il concetto di open ritorna e ritorna prepotentemente per quale motivo? Open non significa aperto necessariamente verso l'esterno è solo una modalità open significa fruibile fruibile, flessibile ed elastico quindi con una nuova tipologia di architettura ricollegandomi poi alla primissima domanda, al primo punto è possibile in maniera agevole, flessibile e veloce creare appunto delle esperienze anche per i singoli gruppi quindi per gli ultra 65 anni come in questo caso per il target di riferimento dove per il 30enne fare il bonifico è normale ma per il 65enne gli devi dire che quello è il modo sicuro per trasferire soldi e allora lo fa sì perché poi c'è anche un tema di sicurezza, di mentalità per questo parliamo di un cambio proprio che deve partire da lì esatto e come lo abilitiamo? beh, se noi abbiamo i nostri mattoncini Lego che sono per esempio i nostri microservizi possiamo pensare di creare queste API che non sono più API tecnologiche ma sono API di business che si rivolgono a target diversi siccome cambia l'orchestrazione ma non i mattoncini di fondo per noi diventa un sistema controllabile flessibile e anche economico da un certo punto di vista assolutamente beh, diventa tutto più semplice perché poi proprio lei Luca inizialmente tra le varie situazioni che metteva sul tavolo che bisogna necessariamente percorrere parlava appunto di protezione e controllo sapere esattamente chi fa cosa però automaticamente questi saranno processi che poi appunto saranno automatici automaticamente automatici però rende più l'idea questo è chiaro e lo saranno anche per tutti i target di riferimento se c'è questo processo di condivisione corretto assolutamente se arriverà a quello tutti i target e da tutti i target si avrà diciamo quello che è poi il ritorno fondamentalmente nuovi clienti piuttosto che fidelizzazione una domanda che è un po' fuori no, non tema ma insomma ma in quanto tempo secondo lei si potrà raggiungere questa perfetta condivisione? lo scoglio principale è l'adozione di questo genere di architetture e infrastrutture superato questo scoglio il resto non è un di cui ma si apre un mondo quindi basta la fantasia e quindi a quel punto è più diciamo mi passi il termine un problema di business è il business che deve decidere cosa mettere lì dentro ah beh, certo perché la tecnologia c'è che detta le regole insomma esatto che detta le regole e allora proprio in virtù di quello che stavamo dicendo che è veramente molto interessante cerchiamo di capire quali saranno le priorità dei prossimi 12 mesi questo forse non dico che è la parte più importante della tavola rotonda ma quasi perché insomma tante riflessioni sono state fatte sui 12 mesi scorsi dobbiamo cominciare a incamerarle nel vero senso della parola per guardare in prospettiva e allora Vitali parto da lei se guardiamo i prossimi 12 mesi intanto quale scenario mi verrebbe da chiedere si prospetta cioè i primi punti che lei metterebbe al centro e soprattutto poi stessa domanda che rivolgerò anche agli altri relatori da qui a giugno 2022 appunto prendiamoci un anno quale sarà la vostra priorità numero uno la strategia che metterete in campo affinché insomma sia sempre più importante intercettare proprio queste esigenze del mercato le esigenze del cliente cioè qual è la priorità numero uno ok mi è piaciuto molto diciamo questo questo paragone del collega guardarsi dentro e guardarsi fuori perché diciamo effettivamente lo possiamo applicare in questi contesti e per quanto riguarda anche la nostra priorità per noi adesso un tema molto importante anche e soprattutto dovuto diciamo alla pandemia il periodo dell'ultimo anno e mezzo che abbiamo vissuto diciamo parlando anche con i nostri clienti diciamo sempre diciamo sulla base costante abbiamo visto tutte le difficoltà che hanno e quindi diciamo tra le priorità che abbiamo visto dai nostri clienti e che hanno anche identificato diciamo gli studi recenti è quello di nel prossimo anno sarà che diciamo le banche e gli istituti di credito in generale dovranno cercare di ridurre il più possibile i loro costi per cercare diciamo mantenere la loro competitività sui mercati e per cercare di essere competitivi quindi nel breve periodo sicuramente l'attenzione maggiore diciamo sicuramente sarà quella di cercare di contenere i costi e quello lo vediamo anche proprio dal riscontro del mercato e delle richieste diciamo che sono arrivate recentemente da noi proprio per quella direzione lì dall'altra parte proprio per estendere questo nell'ottica di lungo periodo invece operatori sì devono cercare di contenere i costi ma devono cercare di contenere i costi diciamo nei rami e nelle parti dove non intattano diciamo non hanno un impatto significativo sull'esperienza dell'utente finale per cui devono cercare proprio fare interventi e automatizzare i processi che sono meno visibili all'utente finale per cui l'esperienza diciamo in questo caso loro non perdono quel contatto quella fiducia diciamo proprio la sicurezza di cui vantano che è l'asset principale che hanno diciamo in questo contesto quindi diciamo lato nostro questo è l'impatto noi cerchiamo di dare diciamo il più possibile il supporto ai nostri clienti e per quanto riguarda invece le nostre soluzioni cerchiamo di avviare dialoghi strategici con le nostre controparti per cui di cercare di posizionarli diciamo nel campo strategico e farli risparmiare nell'ottica del lungo periodo adottando soluzioni automatizzate che permettono diciamo di ridurre i costi operativi e ottenere un vantaggio di lungo periodo beh Milo Gusmeroli arrivo da lei sempre con la stessa domanda anche perché proprio il segreto numero uno e adesso chiedo anche a lei appunto la priorità vostra quello di intercettare prima tutti i bisogni è un verbo che non abbiamo ancora utilizzato ma che insomma racchiude un po' le considerazioni che sono state fatte fino a questo momento e diciamo che essendo banca dovremmo dire che la nostra priorità è sopravvivere diciamo che in inglese survive e quindi declino questo survive per noi vuol dire semplicità e sicurezza perché comunque questi sono due must per avere la relazione col cliente univocità perché comunque i clienti nella declinazione fidgetale che vi dicevo prima significa che devono riconoscersi sia se vengono dal canale fisico sia da quello online reattività che vuol dire essere nella condizione di comprendere i cambiamenti che sono stati indotti e che verranno indotti nei comportamenti dei clienti quindi quando vi parlavo della giorni dei clienti la capacità di capire quello che sono i comportamenti perché oggi le scelte sono più fatte dalle modalità comportamentali che neanche dall'offering che diamo noi la velocità perché comunque il mondo dell'instant diventa fondamentale e il mondo open digital si accoppia per noi anche a questa parola instant l'interoperabilità perché altrimenti guardarsi dentro e guardarsi fuori non avrebbe un senso e poi quegli altri due aspetti che ho cercato di sottolineare di vicinanza e empatia cioè non dimentichiamoci che noi eroghiamo dei servizi a della clientela quindi dobbiamo sempre aver presente la persona e quindi aver presente la persona che poi sia fisica o sia giuridica che agisce per una persona che attraversa una persona fisica non ci può esimere anche da questi due concetti che dobbiamo cercare di portare anche nell'ambito della digitalizzazione dei nostri servizi questo è il nostro programma di sopravvivenza ottimo di sopravvivenza Luca è d'accordo col dire che è un po' un tema anche di sopravvivenza perché anche questo è curioso e poi il tema dell'empatia separato dalla vicinanza della sinergia l'empatia è tutto perché essere vicini creare condivisione sì però bisogna farlo nel vero senso della parola che è appunto empatia credo che ringrazio anzi Milo Gusmeroli che l'ha nominata credo che sia proprio la parola che spiega quello che vogliamo ottenere esattamente diciamo che il primo termine sopravvivenza quindi riprendo da quello che ha detto il collega è fondamentale perché le banche nel prossimo futuro non saranno più solo banche ma saranno provider bancari e quella parola significherà tanto perché significherà le banche diventeranno degli abilitatori di servizi bancari per realtà che non sono banking per evitare che queste realtà diventino banche e quindi uccidiano poi il mercato fondamentalmente la questione chiaramente dell'empatia è strettamente legata a quello che dicevo dell'esperienza quindi la banca si deve evolvere nel creare le esperienze per le diverse tipologie di utenti e tornando poi al tema quello lì dell'ultima domanda qual è l'argomento o dove i banchi in questo momento dovrebbero investire io prendo una sola parola che è quella che si chiama catalogo per essere preciso perché i prossimi 12 mesi saranno 12 mesi dove vedremo uno sviluppo di tutta la parte open le open platform open banking bank as a service e dove vedremo realmente la nascita di queste di queste piattaforme che attualmente per la maggior parte sono come dire a uno stato iniziale chiaramente il catalogo sarà una sarà un argomento fondamentale perché sarà la parte che permetterà di competere una banca con una open platform con un catalogo povero o completamente fuori mercato sarà completamente sconfitta dalla competition perché l'API essendo un un'interfaccia mettono tutti sullo stesso piano non c'è più una unicità quindi una terza parte che sia una fintech che sia una start up o che sia un grande attore l'amazon di turno che vorrà utilizzare servizi banking o servizi dati da provider bancari che non siano per forza banking legati comunque a quel mondo sceglierà sul mercato quello che lo soddisfa di più quindi un catalogo che dovrà essere accurato ricco quindi i prossimi 12 mesi saranno 12 mesi dove il business della banca dovrà investire nel capire cosa proporre e a questo collegato come farlo pagare quindi il tema della monetizzazione perché lì si può monetizzare direttamente quindi monetizzare la terza parte oppure pensare di continuare come dire a monetizzare il cliente finale quindi non facendo pagare la terza parte spingendo l'adoption e quindi chiaramente sono strategie bisogna capirlo perché anche su questo si baserà la scelta poi della terza parte quindi l'altro tema l'aggiornamento continuo la formazione perché poi vabbè lo so che è abbastanza scontato però insomma forse neanche più di tanto soprattutto quando i modelli di riferimento cambiano e le richieste cambiano quindi dove ricchezza parlava un po' di catalogo ricco va a mirare quante più esigenze possibili che insomma voi dovete riuscire a intercettare ecco qui che abbiamo anche unito tutti i vari puntini insomma formazione chiedo proprio a tutti a te prima di salutarvi formazione continua ancora di più vitali e poi milo e poi chiudiamo formazione continua soprattutto è cruciale in questo periodo dove l'evoluzione è veramente veloce è rapida quindi bisogna essere sempre quello che impariamo oggi è già tra il rete scaduto domani che poi in realtà si va a sommare alle altre conoscenze però il giorno dopo c'è qualcosa di più sì e abbiamo adesso abbiamo tutti i strumenti a disposizione diciamo da remoto in tempo di nuovo in tempo reale quindi è soltanto diciamo spetta a noi fare questa formazione aderire e formarsi diciamo che io dico sempre che non abbiamo scuse per non riuscire a conoscere e a informarci certo bisogna attingere alle fonti sicure e quindi qui l'aggiornamento di cui parlavamo prima Milo formazione continua anche qui diciamo che abbiamo bisogno di una formazione interna perché cambiano modelli di business cambiano i modelli tecnologici e quindi la formazione pervade tutti i livelli aziendali perché oggi si è chiamati a fare un business meno convenzionale dall'altra parte abbiamo bisogno di fare quello che abidirebbe educazione finanziaria o formazione esterna perché comunque anche i nostri clienti o comunque i clienti in generale potenziali o meno oggi sono subissati da offerte da potenzialità il fattore è che la conoscenza del valore del proprio dato la conoscenza delle condizioni diciamo economiche e finanziarie la conoscenza della sicurezza delle operazioni sono aspetti essenziali che forse oggi non sono completamente conosciuti e quindi a fianco di questa formazione metterei formazione e livellamento del terreno di gioco perché la formazione va fatta tenuto conto che tutti dobbiamo giocare sullo stesso terreno cosa che oggi non succede per un intermediario vigilato una fintech o una techfin perché senza questo la formazione sia interna esterna potrebbe avere delle falle esatto esatto poi c'è anche tutta l'importanza di un team che sia quanto più omogeneo adesso mi arrivano così dei flash di spunti bisognerebbe stare a parlare tutto il giorno però chiaramente ancora più l'omogeneità interna proprio per poter guardare all'esterno altro aspetto fondamentale va bene allora io ringrazio Milo Gusmeroli Banca Popolare di Sondrio grazie per essere stato con noi per questa mattinata di lavori che insomma ha avviato per altri lavori quindi premesse importante grazie grazie Milo grazie a voi è stato un piacere e ringrazio Vitali Caraba Finastra grazie naturalmente grazie a tutti e Luca Colasanti Axway grazie grazie peraltro anche chi ci sta seguendo avrà visto più volte passare un nostro una grafica diciamo così la chiamo così in cui si anticipa un nuovo format tv da settembre che le fonti vorrebbe inaugurare proprio dedicato all'open finance perciò visto che i miei tre ospiti sono ancora qui e Milo è ancora collegato l'invito è magari a partecipare proprio a questo a questo format ripeto dopo la pausa estiva ci concentreremo proprio perché l'idea è quella di rendere sempre più evidenti questi cambiamenti di cui abbiamo parlato di cui abbiamo parlato quindi vi terremo aggiornati voi avreste voglia di essere dei nostri? sempre assolutamente ci prepariamo subito per una partecipazione attiva perfetto Milo anche lei vero anche se oggi è da remoto però diciamo che ci prepariamo al meglio per far fronte a questa esperienza che sono un po' inusuali nell'ambito del nostro modo di essere eh lo so più abituati a fare che a comunicare diciamo eh lo so come qualcuno diceva bisogna sapere saper fare saper comunicare saper vendere ecco se ci manca qualche spazio se si fanno le cose non si comunicano esatto è come non averle fatte no? cioè almeno e torniamo al discorso dell'orticello non si va oltre va bene grazie grazie mille ancora ai miei ai miei primi relatori adesso passiamo alla prossima tavola rotonda apri i lavori Davide Pasinato Vice President Business Development Southern Southern Europe di Consentus